bentornati sul canale ciao a tutti allora come avevamo già detto e ci avete anche richiesto torniamo a parlare del mini orto fresh heads allora abbiamo già piantato puoi aprire i nuovi i nuovi arrivati nuovi tre abbiamo già piantato barbabietola e fragola adesso insieme andremo a piantare o cetriolo cetri o uno dei nuovi provate a indovinare cos'è dei semi fragola un'altra fragola perché sono piccoli tanto più uscito un po di terra ecco ovviamente è un lavoro che dovete fare in giardino stare attenti perché un po si sporca in giro il terriccio è molto soffice quindi non ci sono problemi ricordatevi quando piantate infatti noi poi segneremo la data di oggi in modo da poter poi controllare quando germoglia quando va rinvasato in un vaso più grande e quando dovrete poi raccogliere i frutti del vostro lavoro giusto oggi siamo senza microfono perché non l'abbiamo attaccato e non possiamo attaccarlo adesso quindi alzeremo un po di più la voce bene cos'è cosa hai trovato quindi staccando il cartellino staccando il cartellino del primo e poi andremo a inserire intanto risposto da ci siamo procurati intanto una ciotolina dove metteremo le capsule di terra e visto che l'acqua da mettere non è molta una siringa tina cos'è la carota la carotina detta anche tina credo che pianteremo la carota perché mi piace vai apri gli altri intanto vediamo che cosa sono le fragole sinceramente non mi piacciono tantissimo però non ti piacciono le fragole voglio esagerare perché sono le mie giusto pronta cosa abbiamo trovato addirittura una faccia cosa è successo è che la carta ha fatto carta contro carta carta contro carta e da fastidio vabbè uno lo apro io dai dai ok tieni ok allora e qual è ecco cosa abbiamo trovato è un classico pomodoro chiamato in questo caso pomodoro come si chiama red come come red no come il film red esatto allora noi pianteremo uno poi gli altri li pianteremo a telecamere spette tutti tutti ci vuole troppo tempo vediamo l'ultimo e poi decidiamo quale piantare dai piantala si la piantiamo adesso ah ah è arrivato l'elfo domestico va bene qui è iperilluminato oggi iperilluminato e prova a spegnere vediamo eh si vede meglio decisamente meglio vero ragazzi allora che cosa abbiamo trovato che cosa abbiamo trovato non vedo bro cioè broccolo no no ma puoi anche scardinare l'intera cucina eh vedi tu allora broccolo allora dimmi che cosa vuoi fare no germogli di broccolo germogli di broccolo che cosa vuoi fare uno uno vero uno sì uno perché avevo preparato tutto l'ambardan per uno carota pomodoro cetriolo o potete mettere sia questa immagine che il nome della pianta ammeremeremu è scitto è una conta strana perché questo germogli di broccolo allora cosa facciamo spostiamo leggermente questo adesso esatto allora andiamo prima di tutto no aspetta si prende la cialdina e se tu ci fai caso prova a versare un po di acqua sopra la cialdina non tanta la cialdina si sciola ancora un po di qua ancora la cialdina si sbriciola e diventa terriccio no è morbido non ancora esatto lentamente diventa terriccio ce n'era già un po formato poi potete sbriciolare leggermente mettine ancora tutta perfetto tanto va a far riempire un'altra siringa di acqua ora dopo che avete noi facciamo tutto in diretta e senza tagli non vedrete tagli sulla nostro che allora dovrebbe essere sufficiente potete smontarlo un po intanto che arriva l'altra acqua prendete il vasetto e riempite di terriccio non completamente poi ci sono le istruzioni comunque che vi aiutano sono dentro i cartoncini mettiamolo ancora un po non comprimete troppo perché i semi devono avere l'agio di uscire un po di acqua perfetto e mettiamo ancora un po di terriccio aspetta dopo rimaniamo per ultimo ok adesso abbiamo messo il terriccio posizioniamo i semi così come sono a pochi centimetri dalla no non ancora è con la carta con la carta si mettono perché una carta più degradabile dammi un po d'acqua qui sopra e sciogliamo ancora un po quel terriccio ce ne basta anche per un'altra in realtà poi ci va perché bisogna comprimere un pochettino e a questo punto coprite i semi con il terriccio rimasto ecco qua quale germogli di broccolo carota pomodoro cetriolo barbabietola e fragola ora abbiamo coperto posso ribagnarlo aspetta andiamo ad inserire metti spostiamo questo mettiamo il cartellino adesso riavviciniamo e ora poi con una silinga che poco poco che a bagnare ancora un po di più entrambe prende un'altra silinga e bagna anche l'ultimo arrivato e cioè i germogli di broccolo mettere ancora un po di terra bagnando probabilmente si abbasserà un pochettino la terra non premetterà mai troppo perché il germoglio deve uscire ed è fragile quindi fragile però ce la fa è tranquilli ora andremo a segnarci le date delle programmazioni per quando dovranno germogliare in modo che controlleremo a telecamere spente pianteremo anche gli altri tre e quando ne arriveranno altri faremo la stessa cosa pianteremo uno insieme vedremo i nuovi arrivati bagna un po anche il nuovo arrivato perfetto anche un nuovo tutta su un nuovo basta ok abbiamo fatto abbiamo piantato i semi del dei primi tre oggi piantiamo anche gli altri come dicevo vedremo che cosa avremo fuori verrà fuori questa sarà una lunga recensione durerà sicuramente fino a 14 16 settimane andremo a vedere anche il raccolto e quello che raccoglieremo dalle piante quindi contenta sinceramente voglio quale vorresti trovare ancora allora chili perché può servire per condire poi basil perché il basilico certo polli poi tim tim poi fa vedere quale quale letti 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 broccoletti no cosa letti lattuga lattuga allora poi prezzo cili e polli e base ma basil che no non è una violetta il consiglio usate sempre una ciotolina esterna perché se lo fate direttamente in questi questi sono fatti di cartone se diventano troppo bene ora ci mettiamo a piantare gli altri e come sempre noi tutti amici diamo al prossimo video ciao